Continua a far discutere l'argomento accoglienza richiedenti asilo in provincia di Arezzo dopo la pubblicazione delle cifre che percepiscono le associazioni e gli enti che si occupano di accoglienza. Anche il presidente dell'Associazione Culturale del Bangladesh di Arezzo, Tito Anisusamman, è stato pesantemente offeso sui social network. Immediata la reazione, non voglio entrare, scrive in un post su Facebook, nel merito di quello che si dice sul mio conto, sono e saranno i fatti a parlare. Voglio però fare una precisazione, l'Associazione Culturale del Bangladesh è nata nel 2007 e dalla sua fondazione non ha mai percepito un centesimo successivamente. Tutti i progetti, le manifestazioni culturali, gli orti cittadini, le mostre fotografiche, l'accoglienza ai rifugiati, le conferenze, gli spettacoli teatrali, i concerti e tante altre iniziative sono state possibili perché mia moglie ed io abbiamo deciso congiuntamente di mettere a garanzia i nostri beni per poter accedere a fondi pubblici dedicati ad accoglienza ed integrazione. Ad Arezzo sono sempre stato apertamente contro l'illegalità e mi sono battuto per la trasparenza continua, Tito, perché quello che facciamo è tutt'altro che un business, ma una missione di civiltà, spesso anche molto faticosa. All'interno della nostra struttura lavorano e collaborano quasi 20 persone tra italiani e stranieri e ogni giorno attraverso il nostro sportello aiutiamo molte persone in difficoltà, anch'esse sia italiane che straniere.